5 minaccia ad altri un ingiusto danno al punito A quella era della persona offesa Con la muta fino a 1,03 euro Se la minaccia è grave o è fatta in uno dei modi indicati Nell'articolo 339 La pena è della reclusione In un anno si procede ad ufficio Se la minaccia è fatta in uno dei modi indicati Nell'articolo 339 Ovvero se la minaccia è grave e rincorrono circostanze Aggravanti articoli 339 Ovvero se la minaccia è grave e rincorrono circostanze Aggravanti ad effetto speciale Diverse dalla recidiva Ovvero se la persona offesa è incapace Per l'età, per l'infermità Diverse dalla recidiva